Quindi, tutto, tutto, è tutto meno che libertà, no? Ciao, dami ragusa, grazie per la prima sub del giorno e il tuo primo prime, bro. Grazie mille e benvenuto. Vieni su Telegram se ti va di far parte della community. E sia dei più famosi che meno. Lì il tavernello, grazie mille per il rinnovo della sub. È il nostro secondo mese. Scrivimi qualche cosa, scrivimi in questa sub. Scrivimi se no non mi fai godere. Siamo così in Eptrain, questa è una cosa che ci tengo sempre a precisare. Ha vinto l'Oscar! Ha vinto l'Oscar qualche minuto dopo. Arte concettuale, bentornato. Secondo mese insieme, tre in totale in realtà. Non secondo, secondo consecutivo, grazie bro. Come stai? Ma quando risuccede? Quando risuccede? Grazie Furippone. No, penso che avrebbero bannato Smith, eh? Lovi, sei tornato! Joe Biden. Non te ne sei mai andato. Joe, Joe Biden. Qua ancora nei trend di livello 2, era da tanto, eh? God. Mamma mia quanto godo, Charlie. Mi fai proprio venire un semi-durello, bro. Grazie mille per i 5 regali di sub, bro. 5. Grazie, 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 grazie. Ti posso dire che... L'ho preso esattamente come pensavo. Grazie, Barion Brega. Ottima interpretazione, Mario, un abbraccio. In infattogì, dici, grazie per l'abbonamento. Che ho subito in tempi di crisi. Davi! In back minore 3. Ciao, bro. Mi sa che ci facciamo una sbollata se ci sei oggi. Ed è lo stesso motivo per cui sono stato male a Milano. Ma minchia già così tanto tempo. Mi ricordo i tempi quando l'urcavo forte. Fino ad oggi. La rovinosa caduta a peggior modo. Minchia, Cappone, grazie per le 5 sub, bro. Grazie. Onorate il bellissimo gesto di Andrea. Grazie, Cappone. Grazie per le sub e venite su Telegram in community. Grazie, Davone, per i 100 bits. I miei problemi sono che... Sì, porco Dio. E che siamo? La Fiera dell'Est siamo. Basta il sugo. Non me l'aspettavo. Mi viene quasi da piangere. Grazie. Io lo sapevo che non dovevo... Fatemi parlare. Fatemi parlare. Davi, torniamo alle vecchie abitudini. Porca miseria. Grazie. Lasciateci. Porco Dio, ho bollito. Grazie per i 10 euro. E scusa per il porco Dio. Grazie per i 10 euro, bro. Grazie, grazie, grazie. Sono tantissimi. Penso che sia nel mio DNA. Gugu, ma quante sono oggi ste sub? Porca troia. Grazie mille per le sub, Gugu. Tu sei un intramontabile donator. Non è mai scontato. Nemmeno un euro è scontato, ragazzi. Chiaramente, vedervi impegnare con tutto sto denaro e con tutto sto supporto. Grazie per la fiducia. Non penso che tu sia aero. Ma trovo un senso. Lo ripeto. Entrate su Telegram. Pasta al suo. Grazie per le 10 sub in totale regalate. Grazie. Madonna, ma che sta succedendo? Tutti impazziti, veramente. Grazie, grazie. Non so, mi imbarazza anche. Ho visto una volta una donazione a Volpesco. Gli regalavano 250 euro. E l'unica cosa che è riuscito a fare naturalmente è stata tipo... Ma hai sbagliato. Dai, te li ridò. No, dai. Perché crea un po' di imbarazzo. Però... Grazie. Grazie. Perché lo dicevo anche qualche minuto fa a sporco di tutto. Non vi chiamerei mai fan. Vi chiamerei seguaci. Perché secondo me qua c'è un rapporto diverso. Come dappertutto, eh. Non stiamo elevando questo a chissà che cosa. Se non ha qualcosa di unico, com'è. Penso che abbiamo il diritto di farlo. Sì. E se non esistono, allora è bene che il teatro non esista. Vediamo la tua reazione. Grazie. Vorrei giocare a Roblox. E bro, hai sbagliato. Te li ridò. Non so. Bro, aspetta. Ehm... È uno scherzo, no? Non ci rimango male. Te li puoi riprendere per fare la gag. Nel caso in cui invece ti sentissi offeso da questa ultima cosa che ho detto, ti chiedo scusa e ti dico grazie. Sono esagerati. Enormemente una grande proporzione di soldi. Merda! Più ve merda sempre! Ho utilizzato l'odio verso la Juventus per risultare in maniera sincera. Sono molto imbarazzato. Grazie. Grazie mille. Ma non grazie, nel senso grazie tantissimo. Non voglio rendermi nemmeno ridicolo, però è una cosa pazzesca. Come si reagisce a queste cose? Porco Dio. E quando vedevo le cose ai fributti con le enormi donazioni pensavo, eh, io sarò molto più figo di quelle. Invece sto facendo il citrullo. E come si fa? Grazie. 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 Come vuoi che li spenda? Faccio un video su YouTube? Lo faccio? Lo produco, bro? Lo faccio. Compro tutto quello che serve. Vuoi spoilerata la canzone che faccio ai Boscar e come la faccio? Lo vuoi sapere? Mi hanno donato un sacco di soldi. Ma prima di quella donazione c'era un macello di sub, ragazzi. Non urlerò da vernello merda. Va bene che sono tanti soldi, ma poi devo andare via da qua. Non va bene. Grazie, bro. Grazie, 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 bollito e mostarda. Grazie. Stavo... Eh, mio padre che gode. Bollito e mostarda sei veramente un grande. Grazie, 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 grazie.